La consulta femminile regionale, organismo che ha accompagnato con numerose iniziative la storia delle donne piemontesi, compie 40 anni. Il ruolo della consulta, fra passato, presente e futuro, e le attività per il 2016, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Rascaris. Nasce il 5 di febbraio con una delibera regionale del 1976 e si riunisce per la prima volta il 12 marzo successivo del 1976. Quest'anno compie 40 anni e noi continuiamo con la stessa vocazione dell'inizio, anche se i tempi sono cambiati e le esigenze delle donne non sono più quelle di 40 anni fa. Vi posso fare un escursus, per esempio, delle attività di quest'anno. Noi cercheremo, per festeggiare i 40 anni, nel mese di aprile, incomincieremo un tour a tappe sul territorio per far conoscere la consulta dai cittadini e dalle cittadine della regione Piemonte.